Nel pomeriggio di ieri la battipagliese 1929 ha perfezionato il tesseramento dell'esterno d'attacco Oreste Annese. Classe 1987 Annese è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Melfi, prima di approdare in Serie D all'Agropoli e dalla Sarnese. Battipaglia è una piazza che mi è sempre piaciuta, ha affermato al momento della firma il giocatore. Sono molto contento di iniziare questa nuova avventura ed ho voglia di rimettermi in gioco e di fare bene. Grazie a tutti.